Aria interne mai più trascurate, maggiori infrastrutture e miglioramento di tutti i servizi sul territorio a partire dalla sanità. Appello forte rivolto a Stefano Caldoro da parte del candidato arianese al Consiglio regionale della Campania, Giovanni Antonio Puopolo, che giudica positiva la prima fase di campagna elettorale tra la gente. Uno perché siamo il primo partito di centrodestra che sta andando molto bene, quindi sicuramente riusciremo ad esprimere un consigliere nel Consiglio regionale. Secondo perché i cittadini stanno rispondendo molto bene, devo dire che tutti quanti ci stanno accompagnando in questa campagna elettorale in maniera molto positiva. A primo piano c'è il tema delle infrastrutture nelle aree interne. Sicuramente le infrastrutture delle aree interne è uno dei temi molto cari a Caldoro, quindi io dico al Presidente Caldoro che appena torna a Santa Lucia dovrà riprendere quel discorso delle aree interne per dare un po' di ossigeno a queste zone che soffrono molto.